A me piace molto correre e poi subito dopo stare lì a guardare e fermarmi al fuoritalico. Devo dire ringrazio chi l'ha riqualificato perché è come avere un mio spazio a portata di mano abitando a Palermo e non a Mondello, quindi per quanto mi riguarda quello è il mio punto.